Ieri ho visto la partita, Juve-Barcellona, Barcellona è finito, zero, caputo. Cioè io se stiamo andando al posto del Barcellona, andando a fare una pizza a pizza, pezzettino piccolino, 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 se stiamo facendo, ma se stiamo andando andando con Barcellona, cazzo è Barcellona, è finito. Comunque, secondo me, quello che pensi, la Coppa la vengono al Madrid, è fortunato, è favorito, dagli albitri, e ci fanno vengere la Coppa, a Juventus, un po' di ufficio, che la vengono. Ritornando al Foggia, io voglio proprio sperare che tutti i tifosi erigli, che prima stavano ammucciati, non accattavano neanche un biglietto, ma tutti insieme, tutti, che fosse un Foggia, tutti che accattavano un biglietto, tutti qui. Quando prima stavano fregati proprio, voglio proprio vedere se vanno a vedere la partita, ogni anno, se fanno il buonamento, perché la Foggia sarebbe a scendere a pensare ciò, voglio proprio vedere, se non contestano nessun giocatore, se non fanno niente, pure quando sbagliano i partiti, che perdo, voglio proprio vedere, perché la Foggia sarebbe a scendere a scendere, se sei un sportivo, un tifoso, è tutto per il sconfitto, e non sanno contestare nessuno, né giocatore, né allenatore, né società, se sei veramente un sportivo, se no, a rischiare, come dicevo, è bavattino, bavattino, vattaccino, che non serve a niente. Un sportivo, un tifoso, non ha rispettato, pure quando è aperto, pure quando ha scendere un bacio in cielo, pure in Serie D. Comunque, sempre forza Foggia, tutti i massimi, pure che siamo lontani da Foggia, sempre forza Foggia, qua qui, sempre rosso e nero, tutti messe di Torino, di Iowa, di Milan, di tutto, però accettano, accettano, Foggia e Foggia, e gli squadri che sono, tutti i tifoli, le zone a fare, o Foggia, qua a fare. non siamo come l'altro i napoletini che so i uventini i uventini che so i napoletini i romanisti che so sottofusore di aeguino i milanisti non si capisce niente si siete forze si siete forze in basso buonasera a tutti